Ben ritrovati, ve l'avevo detto, io ci avevo preso gusto, il gusto continuerò a prenderci, poi proprio gusto ci sta bene perché siamo ancora una volta insieme a Stefano Caponi e quindi è una nuova puntata di Parola di Cuoco. Parola di Cuoco. Ciao Stefano. Ciao Fabio. Allora già mi stavo emozionando perché so che dobbiamo fare un piatto di quelli no che sono toscani, di più, toscanissimo, vero? Anzi quasi a retino questo. Quasi a retino questa tu me la devi spiegare perché innanzitutto cosa facciamo? Pappa e pomodoro. Pappa e pomodoro, però la pappa e pomodoro per me è un piatto tradizionalissimo della cucina toscana e te tu me lo sposti un po' più sul Valtarno a retino. Sì, l'hanno dato questo nome, non so il perché a retino, perché c'è una piccola variante che al posto dell'aglio ci sa la cipolla che è meno ingombrante a livello di palato chiaramente e c'è gente anche un po' allergica all'aglio per cui è una valida... Poi ci si bacia meglio, allora diamo gli ingredienti. Signora Teresa mi raccomando, è il suo momento. Carta, penna, blocchettino, pronti perché d'ora in poi non si può anche scherzare. Voi prendete bene gli appunti. Allora vai Stefano. Allora partiamo chiaramente con del pane raffermo il due o tre giorni. abbiamo la salsa oppassata di pomodoro, del basilico, del peperoncino, questo è a scelta del cliente, cipolla chiaramente, poi sale e pepe cubi. Quanto basta, cubi, il famoso cubi che ormai... E l'immancabile olio extravergine d'oliva toscano. Quello sempre. E noi non si cucina con altri oli che non siano vergini, che non siano toscani. Allora, da che parte si inizia Stefano? Niente, prendiamo chiaramente la nostra casseruola o coccio, perché il classico sarebbe il coccio e andiamo a metterci il nostro olio extravergine d'oliva. Allora, prendiamo il nostro olio e lo versiamo abbondantemente nel nostro coccio. Ecco, non dobbiamo avere paura, signora Teresa, l'olio ci vuole, giusto? Sì, è abbondante. Allora, messo l'olio, abbondante, ripeto, che sia sempre buono, andiamo solo ad appoggiarlo sul fuoco. Allora, abbiamo messo l'olio sul fuoco, adesso andiamo, a nostra scelta chiaramente, a mettere un po' di peperoncino. Il fuoco basso, mi raccomando, perché altrimenti brucia tutto. E andiamo a mettere la cipolla, tagliata abbastanza grossolanamente. La facciamo abbondire, praticamente diventare trasparente, di modo che prenda il sapore e l'olio sia della cipolla che del peperoncino. Mi raccomando, l'olio non deve friggere. Ecco, perché c'è sempre questo rischio, no? Bisogna... è un piatto da seguire, non lo si può lasciare. Sì, ora sì, ora è un piatto da seguire all'inizio, soprattutto perché la cipolla brucia. Prima di tutto l'olio diventa attivo, poi bruciando la cipolla prende la mare e invece dagli sapore e ha caratteristiche della cipolla rossa toscana. Senti Stefano, io la pappa al pomodoro è da sempre nei ristoranti, soprattutto nei nostri ristoranti, parliamo di non solo valdarnesi ma toscani. Da cosa deriva? Come nasce la pappa al pomodoro? E' venuta fuori la pappa al pomodoro che, essendosi un piatto invernale, veniva fatto pomodori fatti d'estate, messi in bottiglia, un vasetto che si poteva conservare, insieme al basilico veniva fuori questo piatto. Certo. Era un riammorbidire il pane duro. Era un, come dire, cercare di non sprecare nulla nelle famiglie matriarcali, patriarcali di una volta. Fa parte delle tre sorelle, sono ribollita, panzanella e pappa al pomodoro. Ora sta soffriggendo. Stefano, chi non ha il coccio, perché questo si chiama coccio, non c'è un altro nome, coccio, cosa può utilizzare? Il coccio è la tradizione perché veniva messo sul canto della stufa a legna e lì poteva stare anche senza guardare perché il foo era talmente basso, ci voleva mezz'ora per il biondere a cipolle. Chi non ha il coccio è un classico degame, un'asserola d'alluminio, meglio d'acciaio, non c'è il problema. Chiaramente è come mangiare il pesce in mare, è sempre più buono. Certo, certo, ha ragione. E la pappa nel coccio è sempre più buona e la pappa cotta nell'acciaio. Anche il coniglio è più buono fatto nel coccio che nel tegame. Allora, a questo punto noi che la cipolla è quasi trasparente e che ha rilasciato tutti i suoi sapori, andiamo a metterci il pomodoro. Anche questo in maniera abbondante, riordiamoci ad abbagnare il pane per cui bisogna sia... Non siamo tirchi perché poi intanto si rapprende, ritira. Ci mettiamo un po' di sale, mischiamo, facciamo le fiammate. Vabbè, quello è normale. Tutti i grandi cuovi fanno il flambenno, si fa con la pappa e il pomodoro. Siamo gli unici al mondo, penso. Fatto questo andiamo a metterci le nostre foglie basilico, che come buon norma dice, li tagliamo con le mani, perché tagliandolo in coltello si ossida e diventa nero. Ecco, sì, stavo appunto notando che stai tagliando tutto in maniera grossolana, ma questo c'è proprio questo motivo specifico di non farlo ossidare. È un ritorno all'origine, chiaramente, perché una volta quando facevano la passata di pomodoro, i contadini, o i pomodori pelati in barattolo, il basilico veniva messo in cielo, cioè non era spezzettato. Ora per commestabilità, per poterlo anche gustare, chiaramente si spezza, se no trocca scansare. E ora andiamo a bollire. E qui, peccato, la televisione non abbia ancora i sensi, perché devo dirlo, già si sente un buon profumo, già si inizia a pregustare quello che diventerà. Sì, chiaramente, perché ora il basilico, cioè la cipolla di basilico, la basilico è arrivato subito. Il profumo e la freschezza anche stessa. Esatto, quindi poi alla fine se uno non ha voglia se lo mangia anche d'estate. Che poi, tra l'altro, questa qui, la pappa, il pomodoro, questa con la cipolla ha la prerogativa di poter essere anche mangiata fredda. Ora, non di frigo, però lasciata fuori, la ventina di minuto è buonissima anche fredda. Certo. Con una dadolata di pecorino viene un piatto stupendo, estivo, veramente eccezionale. Ora è circa 10-15 minuti a seconda della quantità di pomodoro, chiaramente, che cuoce il pomodoro insieme al basilico, alla cipolla e all'olio extravergine e oliva toscano. Non facciamo altro che andare a prendere il pane raffermo e spezzettarlo dentro. Anche questo in maniera grossolana. Cioè, intanto questo poi, cocendo come la ribollita, si fa. Si fa. Diventa, non una purea, chiaramente, perché rimane sempre pezzi un po' più grossi, grossi di si fa. Andiamo a metterlo bene dentro la salsa, salsa, dentro il pomodoro, con la nostra fiamma. Stiamo ancora lavorando e cucinando a fuoco basso? Sempre a fuoco basso. Sempre a fuoco basso. Non ha bisogno di fiamma alta, perché quando ha preso il bollore e il pomodoro, ma aveva preso questo, piano piano sempre, perché si insaporisce meglio, c'è tutti gli oli essenziali, sia della cifolla e di basilio, si miscano il pomodoro e danno il sapore alattristi della pappa. Poi adesso lo mettiamo qua e lo facciamo andare. Un avvertimento, se si dovesse asciugare troppo, non aggiungere pomodoro, chiaramente, però mezzo bicchiere d'acqua e aggiustarlo di sale, chiaramente. Perché il pomodoro poi sarebbe un pomodoro. Io sarei andato proprio ignorantemente ad aggiungere pomodoro, perché l'ingrediente principe è il pomodoro, insieme al pane mi manca il pomodoro. Questo perché ti spiego semplicemente a lei, questo pomodoro ha già la cipolla dentro di sé e il basilio. Quello ci metti è un pomodoro, solo pomodoro. Per cui c'è il rischio di fare due sapori diversi, di sentire due cose diverse. Allora un po' d'acqua, un po' d'acqua della cannella normale. Un po' d'acqua normalissima della cannella, non c'è problema. Niente, e ora facciamo cuoce una ventina di minuti, così a fuoco bassissimo e la pappa è pronta. Io Stefano mi sono già armato, perché ora vado ovviamente all'assaggio. Noto che ha cambiato leggermente colore. Il calore con il pane e tutti gli ingredienti cambia il colore chiaramente. Come cambia le consistenze chiaramente. E prende il colore tipico proprio della pappa al pomodoro. E prende il buono. Signora Teresa, io sono pronto. Lei spero che abbia preso. Ora ridiamo tutto, e non si preoccupi. Che goduria. Dico solo questo, che goduria. Una cosa volevo dire alla signora Teresa, per evitare sbagli e problemi. Se la volete mangiare fredda, questa andrebbe presa direttamente messa in una bacinella con del ghiaccio, che fredda completamente e subito... Cioè gli va dato una botta? Una botta, di modo che non ci sia problemi poi con varie complicanze date al lungo raffreddamento fuori all'aria aperta. Altrimenti la si prende e si mangia. Così com'è e la si porta in tavola. Perfetto. E va benissimo. Allora, Stefano, ridiamo gli ingredienti alla signora Teresa e ovviamente a tutte le signore Teresa del Valdarno. Cominciamo dall'odio extravergine d'oliva toscano, un po' di peperoncino a chi piace, la cipolla, la facciamo imbiondire, poi andiamo a metterci la salsa di pomodoro e di basilico e lasciamo cuocere 10-15 minuti a seconda della quantità. Sempre a fuoco basso, mai a fama alta perché queste cose non si fanno veloci, si fanno lentamente. Poi dopo 15-20 minuti senza fuorito tutto, con il sale e tutto questo composto, ci andiamo a mettere il pane duro e lasciamo ancora finché non diventa morbido, finché non si disfa, tolgo 10-15-20-5 a seconda del tipo di pane e i pezzettini ci mettiamo e lo facciamo cuocere. Basta, pronta da servire a tavola così, fredda, gratinata. Come si vuole, si vuole, troviamo mille usi, l'importante è mangiarsela e farsela seguendo la procedura che ci ha detto Stefano perché questo è parola di cuoco, lui ovviamente. Stefano Caponi qui alla buca di Ipo, Stefano, ma la cucina può essere uno spettacolo? Sì, sicuramente sì. Sicuramente sì, poi capirete anche questo. ci vediamo la prossima volta con cosa? Che ci inventiamo? La prossima volta facciamo un primo di base valdarnese, una ricetta mia, però, il primo semplice, però gustosissimo, che va a richiamare un po' la tarese del valdarno, va a richiamare... è una ricetta made in la buca di Ipo proprio. Sì, questo sì. Oh, che meraviglia. Allora ci vediamo tutti la prossima settimana. Allora ci vediamo. Allora ci vediamo la prossima settimana.